Gli ABBA stanno per tornare. Dopo le voci che si erano sparse rispetto ad una loro partecipazione come ospiti al 71esimo Festival di Sanremo, poi smentita, questa volta la riunione ufficiale. Il gruppo svedese costituito da Bjorn Ulvaeus, Benny Anderson, Agneta Faltskog e Annie Friedlingstad si è infatti recentemente riunito in studio per registrare 5 nuove canzoni. Queste, con tutta probabilità, faranno parte di un disco che uscirà in un prossimo futuro. La certezza è però costituita dalla Batar Tour, ossia una serie di concerti organizzati dagli ABBA che vedranno protagonisti degli ologrammi. Avete capito bene. I quattro membri della band svedese registreranno le loro voci. Dopodiché, grazie ad alcune tecnologie all'avanguardia, sul palco saliranno delle rappresentazioni grafiche di loro stessi. Tutto ciò dovrebbe svolgersi nel 2022, salvo nuovi spostamenti dovuti alla pandemia di Covid-19. Nell'attesa, abbiamo deciso che un ripasso della loro particolarissima storia sia assolutamente dovuto. Quanti intrecci in soli 10 anni di attività tra il 1974 ed il 1984, gli ABBA sono divenuti una vera e propria leggenda della musica scandinava, in grado di vendere oltre 400 milioni di dischi in tutto il globo. L'origine del nome è tanto semplice quanto originale. Vi basti osservare infatti le lettere iniziali dei nomi dei quattro membri. Ma, se vogliamo, la particolarità più incredibile della storia degli ABBA è che, di fatto, negli anni del successo internazionale, il gruppo era formato da due coppie. Gli interpreti di hit internazionali del calibro di Waterloo e Dancing Queen sono stati infatti sposati per molti anni tra loro. Per la precisione, Bjorn Ulvaeus ed Agneta Falkskog formarono un nucleo familiare tra il 1971 ed il 1980. Benny Anderson e Annie Friedlingstad invece si sposarono nel 1978 per poi divorziare nel 1981. Oggi, a distanza di 40 anni dal loro scioglimento, gli ABBA sembrano aver superato le varie impasse che hanno riguardato vita privata e carriera, ed hanno deciso di regalarci nuovamente una serie di concerti memorabili.